Ciao a tutti, mi chiamo Mary, ho 54 anni e sono un'infermiera da circa 30 anni, lavoro all'ospedale di Ravenna, ho come passione la musica, tutta la musica in generale, amo soprattutto come strumento il pianoforte, ho studiato qualche anno da ragazzina, poi ho smesso. Da adulta ho deciso di ricominciare e oggi per l'edizione del concorso di un 2022 di Piano Link suonerò la sonata K1 di Scarlatti senza ritornelli per motivi di minutaggio e lo scherzo Opera 20 numero 1 di Cepè. Piano Link suonerò la sonata K1 di Scarlatti senza ritorno. Piano Link suonerò la sonata K1 di Scarlatti. Piano Link suonerò la sonata K1 di Scarlatti. Piano Link suonerò la sonata K1 di Scarlatti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.